pensi cosa è successo a mio marito un bel disastro e prima di una riunione importante così ho scoperto come forte il nuovo dixan liquido a quello bianco con la nuova formula potenziata e campione contro le macchie vogliamo vedere guardi le macchie sono sparite e il bianco i colori sono perfetti soddisfatta molto dixan liquido nuova formula campione contro le macchie e io ne so qualcosa